Fratelli e sorelle, è un piacere ritrovarvi anche oggi, 22 settembre, festeggiamo e ricordiamo San Maurizio. Ascoltiamo. Maurizio, durante l'impero di Diocleziano e Massimiano, era il capo della Legione Tebea, una legione romana composta di 6.600 uomini, tutti cristiani, pieni di tanta fede e tanta pietà, che parevano una comunità religiosa. Cresciuto fra le armi, egli univa al coraggio un amore a Gesù Cristo davvero ammirabile. Si narra che Maurizio ricevette ordine dall'imperatore di recarsi in Italia per unirsi al resto dell'esercito romano e andare nelle Gallie con la sua legione. Giunti nella Valesia, presso Agauno, l'imperatore ordinò una sosta, durante la quale dispose che tutti i soldati assistessero ai sacrifici e giurassero di far strage di tutti i cristiani. Maurizio e i suoi legionari si rifiutarono, disposti a morire anziché offendere Dio. Massimiano allora ordinò che la legione fosse decimata e, udendo che gli altri legionari erano rimasti fermi nel loro proposito, ne ordinò una seconda. Ma quegli eroi intrepidi, invidiando la morte dei loro compagni su cui era caduta la sorte, protestarono contro l'imperatore. Questa protesta inferocì Massimiano, che comandò ad un'altra legione di circondare la Tebea e di uccidere tutti quelli che persistevano a confessare il nome di Gesù. E così, in breve tempo, tutti furono trucidati. Maurizio era un valoroso condottiero, al capo di più di 6.000 uomini dell'esercito romano. Era un leader, un uomo che sapeva guidare le altre persone e condurle verso un unico obiettivo, a lottare tutti insieme. E quando si lotta, si è pronti anche a dare la propria vita. Così è stato, ma non per una battaglia terrena. San Maurizio ha dovuto condurre i propri uomini verso una battaglia santa, una spirituale, ossia contro il martirio. L'imperatore impone il sacrificio ai dei pagani, lui dice no, perché aveva la fede in Gesù Cristo e voleva difenderla. Questo costò la vita, lui e i suoi uomini. Ed è proprio questo che volevo sottolineare, la capacità di essere delle guide e di condurre le battaglie nella vita. Forse anche noi siamo dei piccoli condottieri, ma cerchiamo di capire chi è il nostro leader, a chi noi obbediamo, a chi noi siamo disposti di sacrificare la vita. È una domanda che forse ci può insegnare parecchio su di noi e sulla nostra fede. San Maurizio prega per noi.